Al via un nuovo servizio negli uffici postali dei comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. Dal primo marzo scorso, anche presso gli uffici postali, è possibile richiedere il rilascio del passaporto o il rinnovo del documento nel caso in cui sia scaduto o sia andato smarrito o rubato. Nella lista dei 34 comuni figurano nel Salernitano, nel Vallo di Diano, nello specifico, Atena Lucana, Padula, San Rufo e Sassano. Grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell'Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i cittadini residenti o domiciliati nei comuni con meno di 15.000 abitanti inclusi nel progetto POLIS di Poste Italiane potranno aprire una pratica di richiesta o rinnovo del passaporto. Basterà presentare la documentazione direttamente allo sportello dell'ufficio postale, con la possibilità di ricevere poi il passaporto direttamente a casa. Il progetto POLIS trasforma gli uffici postali nella casa dei servizi digitali, uno sportello unico per rendere semplice e veloce l'accesso ai servizi della pubblica amministrazione in 7.000 comuni al di sotto dei 15.000 abitanti. Grazie alla piattaforma tecnologica in dotazione agli uffici postali POLIS, sarà lo stesso operatore a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino, impronte digitali e foto, inviando poi la documentazione all'ufficio di polizia di riferimento. Il servizio di rilascio del passaporto si aggiunge agli altri già attivi negli uffici postali POLIS e nei prossimi mesi si potrà richiedere anche la carta d'identità.